Ad Alba ci sono diverse denominazioni di origine, c'è il nebbiolo d'Alba, c'è la barbera d'Alba e c'è anche da poco l'Alba e Basta, quindi è prodotta con un blend di barbera e di nebbiolo in diverse percentuali. In questo caso abbiamo il Picit, che è un'Alba 2021 dei Marchesi di Barolo, che è una delle più importanti aziende dell'Albese e delle Langhe, grandi produttori di Barolo, di Barbaresco ovviamente, e anche di questo Alba, che ha 70% di nebbiolo e 30% di barbera. Invecchia per cinque mesi tra Botti Grandi e Barrique ed è un vino direi abbastanza facile da bere tutto sommato, per quanto possano essere facili da bere i vini di questa zona del Piemonte, evidentemente. Allora mette insieme la potenza del nebbiolo, i tannini del nebbiolo, con la freschezza della barbera. Questa è un po' la filosofia di questo vino e andiamo a vedere che com'è. Il colore è un bellissimo colore rubino, molto vivo, probabilmente la barbera in questo caso ha il suo ruolo, proprio perché è la barbera che ha più colore rispetto al nebbiolo. Proviamo a sentire i profumi. I profumi hanno insieme delle note floreali, come appunto il nebbiolo ha normalmente, ma anche delle note di amarena, ad esempio, che sono invece più tipiche della barbera, e qualche accenno speziato, che probabilmente deriva dalla maturazione in legni piccoli, in parte quantomeno. Proviamo a sentire il sapore. È un vino facile da bere, i tannini sono appena accennati, ha una bella freschezza acida ed è soprattutto un vino elegante che si può abbinare con un sacco di piatti, quindi è molto eclettico. Con la cucina piemontese, ad esempio i grandi bolliti, per esempio, ma anche con i tagliarin, con i vari ragù e con un sacco di piatti della cucina regionale italiana.